Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella vita dei youtuber, episodio numero 2 Come state vedendo League of Giants gameplay ci sta facendo veramente tantissimo, tantissimo successo E io ragazzi cosa faccio? Continuo sempre con League of Giants Perché proprio perché ci sta facendo tantissimo successo andiamo con League of Giants Vedo che questa finalmente una serie vi piace ragazzi, vi stia piacendo Quindi mi fa veramente piacere e io ve la porterò con tutto il cuore Allora, una volta che ci mettiamo League of Giants qui diciamo nel registrare Your computer is broken, ok si è rotto il computer, benissimo Come faccio? Come faccio a renderizzare se ho il computer rotto? Comunque registrando andiamo sempre con il commento divertente perché quello che ci fa guadagnare di più Professionale lo farà, ok abbiamo azzeccato anche questo Vediamo un po' se abbiamo l'ultimo, ok Questo qua ragazzi lo voglio togliere nel commento non divertente Comunque il prossimo Allora andiamo a sistemare bene il rendering Facciamo così, facciamo così E qui ragazzi andiamo a perdere un bel po' Però pazienza, allora ci andiamo a mettere verde ce ne abbiamo due Arancione ne abbiamo uno Quindi mettiamo questo e ci mettiamo un altro verde Perfetto, processa, va benissimo così Interesse 21% Cazzo, mi sa che questa volta andremo a incalare Ciao sono tuo padre, ops scusa appartamento sbagliato Vedo che ho un sacco di cose qui Potresti darmi sveglia così posso darlo a mio figlio Eh, guarda Vediamo, ho 119 dollari Ma non posso comprare un'altra? Sì dai, prendi, dai Allora abbiamo avuto Grandi, sono sicuro che gli piacerà la sveglia Abbiamo il 10% in più E l'1% in più Non so cosa significa Ha chiamato la scuola E mi hanno detto che è risaltato molti giorni di scuola questa settimana Lascia stare il computer e studia Oh porca miseria Oh porca miseria Allora il computer si è rotto Quindi andiamo su info Andiamo su ripara E nel frattempo ragazzi Eh, allora Andiamo a mangiare un qualcosina Mentre il tecnico ci ripara il computer Scusa perché non posso andare a mangiare mentre il tecnico ripara? Non mi fa fare nulla raga Perché? Il motivo? Una volta riparato Dici di dare un'occhiata a comune di nuovo nel negozio Dovevi entrare nel negozio cliccando aggiorna Non me ne frega un cazzo Ma perché? In questo negozio puoi comprare tutti i tipi di accessori per migliorare la perfetta del tuo pc Ogni componente fornisce un certo numero di punti rendering Oh, e posso anche comprare nuovi software di editing per raggiungere nuove effetti e mi aiuto Al momento non me ne frega un cazzo Ciao, ti piace la tua... Eh, sono sicuro di no Mobbing fonti offre una connessione inter più veloce Devi solo pagare 20 euro per averla Eh, sei caduto in una trappola comune Pagare il camione... Vaffanculo vai Ci ho provato raga Niente, mi hanno tolto 20 dollari Va bene, andiamo a mangiare immediatamente Andiamo a dormire E poi, bello mio, vai a studiare Perché ne hai bisogno Ragazzi, altro successo eclatante di League of Jams Siamo arrivati a 6.000 visualizzazioni Andiamo a vedere un po' il canale YouTube come va Allora, abbiamo guadagnato un totale di 36 dollari 3.044 iscritti 26.000 visualizzazioni Il miglior video è stato League of Jams gameplay numero 4 6.000 visualizzazione 1.000 mi piace E 9 dollari guadagnati Il tuo network non può far parte di un network Finché non raggiunge appartamento di lusso Ok, non me ne frega niente Allora, nel frattempo Da che che stiamo con 16 di idea Andiamo a fare un altro video gameplay di League of Jams Andiamo sempre con League of Jams Per il momento È quello che sta facendo guadagnare di più Quindi andiamo Va benissimo così E appena ci prendiamo un altro po' di dindini Ci compriamo un nuovo gioco Così almeno Diamo una svolta in più al canale Vediamo un po' che gioco comprare Allora, commento divertente Questo va sempre Ecco che ragazzi Abbiamo superato pure l'episodio 4 Commento cantando Credo che potrebbe andare bene E poi commento serio Commento sarcastico Vediamo un po' se va Perfetto Basta che non mi dà l'errore Andiamo con prossimo Allora mettiamo questo Poi li mettiamo Questo E questo Perfetto Almeno non abbiamo sgaglato di tanto Sì Siamo questo Perfetto Processa Vediamo l'interesse Non c'è interesse Però questo gioco sta iniziando a calare Direi di Abbiamo Stiamo messi bene col cibo Quindi andiamo a consegnare i giornali E appena ritorniamo ragazzi Vediamo di fare un upgrade Ok siamo tornati dal lavoro Abbiamo 148 dollari a disposizione Oh non so se sono sterline Non so Non sapevo Non sapevo Non sapevo che sono dollari Andiamo con i Critica divertente Va benissimo così E poi qui abbiamo I saluti Semplice Va bene Perfetto Allora Ci dobbiamo mettere un attimo al pc E vediamo un po' Cosa possiamo migliorare Della nostra Ehm Deve spiegare che il video sarà caricato Ah bene Allora facciamo una cosa Vai a dormire Ciao sono tuo padre Ho scusa portato il danno Non troppo trovato Così posso stare il mio figlio Ehm E che cazzo Mi sta togliendo tutto però Ehm Che palle No Ok Allora Facciamo una bella cosa Andiamo a lavorare Visto che abbiamo la possibilità Ci facciamo un altro 30 dollari E poi ci compriamo un gioco nuovo Con questi soldini guadagnati Con la consegna dei giornali Quest'altro pure video Sta andando bene Vediamo i commenti Ci sono 3 pollici in su E 2 pollici in giù Già non è pieno di pollici in su Però già la cosa ancora va meglio E voglio di chattare No grazie E infatti ragazzi Vedete che stiamo calando con i like Ehm Dai facciamo una bella cosa Acquistiamo un nuovo gioco E vediamo un po' Cosa acquistare Stiamo nel 26 gennaio 2000 26 gennaio 2017 Ehm 26 gennaio Allora King prison 59 euro di gioco Armored giugalo Party Hidden got Ehm Direi di andare su questo Armored Boh Proviamoci questo Vediamo un po' Se non lo sgadiamo Dovrebbe arrivare a breve Io nel frattempo Vado a studiare Ok siamo tornati Dallo studio Anche perché Vediamo il calendario Abbiamo l'esame Il 31 gennaio Quindi dobbiamo studiare In questi ultimi tre giorni Dobbiamo studiare tantissimo Oltre a studiare Dobbiamo mangiare Dobbiamo dormire E poi ci facciamo Il video gameplay O Il gameplay Si Del nuovo gioco Acquistato Vediamo un po' Come reagisce la gente Sul canale youtube Vediamo un po' Se ha Un Un successo Oppure Rimane nella media Ora vediamo un po' Allora andiamo a registrare Nuovo video Allora Armored giugalo Facciamo il gameplay Inizia video Vediamo un po' Ok perfetto Mettiamoci subito All'opera Va benissimo Sta perdendo iscritti E lo so E lo so Perché League of Jans Non sta piacendo più Va bene Abbiamo recuperati Si Meno 222 Va bene Vediamo un po' Se questo gioco piace Altrimenti Saremo costretti A comprare Un nuovo gioco Abbiamo 16 Abbiamo tutte le idee Complete Piene Siamo tipo così Andiamo su Commento Sarcastico Perfetto Ok E' zaccato Allora Mettiamoci questo Questo Poi metto questo E questo Cazzo Un sacco di rossi Quindi mettiamo questo E questo Questa volta Interesse 64 Buonissimo Andiamo a studiare Perché oggi è 28 Il secondo giorno Quindi dobbiamo andare a studiare Per forza Ok Siamo appena rientrati Da scuola Io ragazzi Spero di passare Questo esame Perché Ok 4 Perfetto Non mi dire parole Perché sto studiando Non rompere i coglioni Mamma E che cazzo Allora Allora Qua Dobbiamo aspettare Che carica il gameplay E facciamo una bella cosa Ci andiamo a Trovare un lavoro Andiamo a Lavare le macchine A riuscire le scarpe Mai sia Un lavoro proprio di merda Meglio lavare le macchine Dai Ok Abbiamo guadagnato altri 20 dollari Abbiamo 200 dollari messi da parte Il video è quasi caricato Direi di farci un piccolo sognellino E altrimenti Mi vado a fare Un altro piccolo Lavoretto Tipo Ci andiamo di nuovo a lavare le auto Ecco qua Questo gioco ha preso 3 mi piace E 2 non mi piace Ok Questo gioco come vedete Ci sta facendo guadagnare Tanti iscritti Almeno recuperiamo i 222 persi Su League of Giants Perché non sta piacendo più Perfetto Allora Da che che Ci sta piacendo Andiamo a Farci un altro video gameplay E beh Ogni tanto bisogna cambiare Giustamente Andiamo qua Facciamo il secondo video gameplay Le idee ce ne abbiamo Ne abbiamo solamente 13 Ma bastano Per il momento Voglio almeno salire di livello Un altro disper In modo che Ci mettiamo un'altra abilità Magari mettiamo I walkthrough Commento divertente Andiamo 481 iscritti Perfetto Ci sta facendo guadagnare Veramente tantissimo Sto video Grazie mille Abbiamo speso giusto 15 euro di gioco E stiamo andando Alla grande Prossimo Magari fosse così Ripeto Nella vita Reale Ok Perfetto Abbiamo sgarrato solamente di uno Ci mettiamo questo E un verde Perfetto Processa Interessa Il 58% Va benissimo Ancora così Allora andiamo a dormire E il 30 gennaio Dobbiamo andare a studiare Ehm Lungamente atteso Chili Viking È stato rilasciato Per Rony Play Studios 2 Che sarà la Playstation 2 Però per il momento Noi non possiamo Permettercela Ragazzi Come vedete Armored Giuggalo Party Ci ha fatto guadagnare Quasi mille iscritti Quindi piace Piace veramente tanto Ok Abbiamo l'esame Però prima dell'esame Cazzo Dovevo Dovevo mangiare Almeno andavo con Con la pancia piena Comunque Il voto del test Di questo mese E B Notevole Perfetto Ok abbiamo fatto Un ottimo risultato Vai a mangiare Come vedete Siamo saliti pure di livello Quindi Ciao il mio computer Si è rotto Non posso utilizzare un video Sento che sei bravo in questo Puoi caricare tu il video Ti spedirò il gioco Vai manda Il gioco si chiama Lord Battle for Ehm Vai bellissimo Perfetto Ok Ok Dovrebbe arrivare il gioco Oh Abbiamo 18 di idee adesso Abbiamo saliti Un bel Più Un bel po Di idee Qui abbiamo Gameplay Di Lord Lo faremo Ok Andiamo a aprire Questa cassa Vediamo la mamma Quanto ci da Bene Una B è buona Sono contenta per il tuo test Prendi queste 25 dollari Continua a lavorare Soto Ok Grazie mamma Dei tuoi 25 dollari Perfetto Allora qua Regalino Ricompensa XP 6000 Fare un video di gameplay Raramente Ah Qua ci sono C'erano le cose Oddio Sono un ignorante Non l'ho premuto Cazzo Si torna a scuola La scuola Colbissimo posto Vai a scuola Allora Armored Sta calando È arrivato il gioco Di quel nostro amico Dobbiamo portarlo Quindi Andiamo qui Gameplay Interesse È poco Però lo sto facendo giusto Per non perdere L'amicizia Quindi Diamoci da fare Facciamo quest'altro Video gameplay E poi Andiamo a scuola Perderò un bel po' Di iscritti Grazie a questo Cazzo di gioco Però Almeno Recupero persone Perché li faccio Un favore No Mi faccio un'amicizia In più Urlo celebrativo Non volevi Va bene Andiamo così E va bene Non ne ho beccato una Questa volta Allora Mettiamoci così Così E così Perfetto Andiamo così Processa Interesse al 49% Beh Piace questo gioco Alla fine Cazzo Ci ha fatto altri Mille iscritti Armored Buonissimo Qui abbiamo Due nuove Canzone con copyright Frega proprio niente La canzone con copyright Oh Qua siamo saliti Di Abilità Quindi Possiamo fare Giochi di piattaforme Corse sport Sandbox Ti tranno Un 10% Di like In più Giochi di piattaforme Corse sport E 20% Di like In più Potrebbe essere buono Anche questo Altrimenti Cosa ci sblocca Hardcore Niente Dobbiamo sbloccare Per forza questo Perfetto Poi possiamo sbloccare Hardcore Giochi di avventura Azione Simulazione Ok Buonissimo Allora Da che che sta caricando Io mi vado a fare Un bel lavoretto Lavaggio sempre di auto Un successone Dell'amadon Armored Giugalo Party Gameplay 2 Raga 8000 Visualizzazioni Cioè quasi a 10.000 Visualizzazioni Allora vai a dormire Bello mio Mi ti caccio E poi Famo una bella cosa Abbiamo 286 dollari Non avevamo notato Che avevamo una cifra Così Esorbitante Quindi Famo una bella cosa Adesso Allora Guarda Sto video E' stato un qualcosa Di Epico Epico Spettacolo Spettacolo 311 Mi ha fatto guadagnare Tantissimo Allora Qua abbiamo Un nuovo punto Allora abbiamo sbloccato Un punto 30 Abbiamo già fatto Due nuove carte Tre lampadine aggiuntive 28 nuovi vestiti 5 nuovi vestiti E 7 nuove decorazioni Per la casa Prossimo Perché ragazzi Una volta che abbiamo 500 dollari Mi faccio Di nulla E' un piacere Cazzarola Mi ha pagato pure Benissimo Allora andiamo qui Facciamo un altro Gameplay Di Armored Perché sta piacendo tantissimo Quindi dobbiamo approfittare Dei giochi che piacciono Dobbiamo dare proprio Il boom Di questi giochi 2-3 Video al giorno Non morire Mi ti caccio Non devi morire Andiamo al commento serio Vediamo un po' Se l'abbiamo azzeccata Sì Perfetto Quale immagine Potremmo dare un orologio Libra Tipo No Commento sarcastico Vediamo un po' Se l'abbicchiamo Sì Perfetto Ok Allora mettiamoci Questo così Questo così E questo così Abbiamo solo Un fottutissimo Rosso 51% Questo video ancora Piace Quindi andiamo a Mangiare E poi ragazzi Andiamo a studiare Perché Dovremmo avere Credo un altro esame Il 28 febbraio Quindi dobbiamo darci Ragazzi Lo sto facendo studiare Come un dannato Mi caccio Guardate là Ho fatto Studia 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 Tre volte Questa è la quarta volta Che sta andando E poi c'è la quinta volta Che deve studiare Nel frattempo Lord Battle of For Who Per Earth Gameplay Mi ha portato 242 iscritti E 3000 visualizzazioni Pensavo che Deveva andare molto In negativo E invece no Ragazzi Sta andando E' andato bene Si potrebbe dire Allora Ma che torniamo Dalla scuola Ci facciamo Un altro video gameplay Di Armored Giocaloparce Guardate Guardate come sale Cioè piace Piace tantissimo Allora Una volta che lui è tornato Dalla scuola Ci facciamo Un altro gameplay Di Armored Ok E così Mettiamo Un altro video Sul nostro canale YouTube E nel frattempo Possiamo andare a scuola E levarci il pensiero Diciamo Della gestione Del canale Di YouTube Allora Andiamo sempre Saluta con la mano Già 4000 visualizzazioni Cioè Mamma Magari Nella vita reale Magari E' una soddisfazione Eclatante Però Se uno c'ha il lobby Lo fa lo stesso Ecco qua Due Perfetto Prossimo Ovviamente Si saprà che Emo che arriveremo Al settimo Ottavo Gameplay Le cose Non andranno Come dovrebbero andare Perché sicuramente Scenderà l'interesse Vedi già 45 Rispetto al 64 Dell'inizio Dovremmo comprare Un nuovo gioco Qui abbiamo Qui abbiamo Una nuova carta Canzone Cocco Pirati Che non utilizzerò Mai Mamma Vedi che sto andando A scuola Non rompere il cazzo E che micia Roba E che palle Ok Ok Questa tabella qua Non l'ho capito Delle colezioni Delle carte Comunque Mamma Vedi che sto studiando Ma che cazzo Ho preso due tacchette Solamente in un giorno Vabbè Andiamo a dormire Neffermente Ci prendiamo I nostri Punti esperienza Editare senza riposo Ho fatto Buoni voti Hai sbloccato Un nuovo tipo di video Incominciavo ad avere Alcuni fans E sentivo il bisogno Di condividere Alcuni momenti Con loro Mettermi davanti Alla videocamera E condividere i miei pensieri Posso farlo Ad ogni evento Semplicemente Cliccando sul mio personaggio Abbiamo sbloccato i vlog GG Ottimo Allora Da che sei pronto Vai a studiare Due volte di fila Nel frattempo Ragazzi Armored è arrivato Quasi ai 11.000 visualizzazioni No è arrivato A 11.000 visualizzazioni Grande gioco Grandissimo gioco Le stiamo zaccando tutte Perché stiamo comprando I giochi veramente Uno dietro l'altro Che li stiamo zaccando Abbiamo zaccato League of Junt Eravamo arrivati A 3.000 iscritti Abbiamo comprato Armored Juggalo E siamo arrivati A 7.000 iscritti Quasi Quindi ragazzi Ci sto facendo Guadagnare Veramente tantissimo Questo gioco Perfetto così Allora La cosa che voglio fare adesso Da che abbiamo Sub Vado a mettere Un altro video su YouTube Proprio ragazzi Uno dietro l'altro Perché funziona così Ci andiamo a fare un altro video game play Numero 5 Poi andiamo a mangiare Appena finiamo di renderizzare il video Di registrarlo E renderizzarlo Ovviamente Ok Perfetto Il lungo Il lungamente atteso Planet Wars Il nostro cutter 2 Il nostro cutter 2 è stato rilasciato Cazzo Si è rotto il pc Si è rotto il pc Sento che fa le fiammelle Sto pc vuole essere cambiato Cazzo Sarò Interesse E' sceso l'interesse Va benissimo così Ripara 20 dollari Ora viene il tecnico E ci ripara il pc Nel frattempo Mangiamo Possiamo andare anche A spiegare Due volte Di fila Nel frattempo Il tecnico Mi ripara il pc Armored Sta sempre intorno Alle 5000 visualizzazioni Quindi va bene Proviamo a comprare Ora che torniamo Da scuola Il gioco Che ci è uscito Lei la notifica Ho studiato abbastanza Questa settimana Perfetto Ok Allora Facciamo Scusate Dice che abbiamo 428 Il computer sta lavorando E che cazzo puoi fare Vai a lavorare Vai a lavorare Vai Guadagniamo soldi Ok E' tornato dal lavoro Andiamoci a fare una bella dormita E poi Andiamo a studiare Caspita ragazzi Come vedete Armored Non sta piacendo più Perché ho preso 4 pollici in giù E un pollice in su Quindi Approfittiamo Andiamo a comprare subito Un nuovo gioco Perché prima che perdo iscritti Allora andiamo a comprare Questo è stato l'ultimo King Pryson Questo hanno detto che deve essere un gioco Play studio E' al termine della sua vita E verrà presto Ritirata dal commercio Come va Mi di caccio Voglio festeggiare stasera Se non volevo divertirti un po' Giusto Dai ci divertiremo in un mondo No Ci divertiremo in un mondo Festa Vorresti venire con me No Perché c'ho da fare Ciao Il mio computer si è roto Eh Sì Vai Mandami il gioco Perfetto Proprio quello che volevo Devi pagare due mesi di affetto Per avere l'appartamento Sono rinunciato Quando li avrai preparati C'è da scegliere un gioco No Ma dai Ma non voglio Ma non volevo fare questo Scegli un gioco No Voglio fare altri gameplay Non rompere il cazzo Vai Ma perché Perché non posso fare E adesso E come cazzo faccio A cliccare Oh porca miseria La tua casa Ragazzi Ce ne stiamo andando A come l'esperienza Come l'obiettivo Ho sbloccato le nuove case Con nuovi pregi Come una maggiore velocità Di upload La possibilità Di assumere collaboratori E ci sono anche Nuove sfide da completare Di certo Prima di trasferirmi Devo essere sicura Di poter pagare l'affetto Mensilmente Se non voglio passare Dei guai Allora Costo mensile Zero Quindi non ne avevamo spese Costo mensile 80 dollari Al mese Velocità di internet 4 megapixel Scusami 4 megabyte Spazi di lavoro Uno Cucina pagato da te Studia No Corsi Si Conquilino Si Cazzo Trasferissimi Faffanculo Non mi volevo Trasferire però Cioè volevo stare ancora Dentro casa di mammi Stavo tanto bene Non pagavo affitto Mangiavo gratis Accumulavo soldi E mi facevo la prestazione Spettacolo Va bene Questa è la mia casa Bye bye mam E giustamente Salutiamo la mamma Va bene Questo è il mio nuovo appartamento Pagheremo 80 dollari al mese In questa stanza ho scoperto di poter davvero vivere facendolo youtuber Quindi mi sono dedicato interamente a questo e ho raggiunto 50.000 iscritti In più in questo appartamento avevo il tempo per studiare i corsi e migliorare le abilità di youtuber Ma avevo anche altri doveri Dai 50.000 iscritti non li vedo Sono già nel mio nuovo appartamento Ora che non vivo più con i miei non corro più il rischio di vederlo sparire il mio computer E sono libero di fare quello che voglio Ma ho nuovi doveri E beh perfetto Da ora in poi posso mangiare tutto quello che voglio Apri il frigorifero Ok Apri il frigorifero Andiamo a mangiare Vediamo un po' se lui va a mangiare Ok E ci mangiamo Ho capito Promo il cazzo che abbiamo più spese Già ci hanno tolto 160 dollari Ci hanno tolto già due mesi E lo so E lo so E lo so che c'è solo il mortacci 2 Dobbiamo fare il gameplay pure di King Quindi datti da fare Scegli un gioco Andiamo a fare subito sto cazzo di gameplay Prima che quella la non ci paga Porca miseria Perché rompi il cazzo E che Kaiser Ho capito Ma io non sono venuto qui Va benissimo Seleziona questo Perfetto Va benissimo Ok Alla grande Tanto andremo avanti solamente A pane e acqua Dobbiamo fare il gameplay Muoviti Muoviti Sto perdendo pure iscritti Cazzo Perdere la testa qua Via via Oh vediamo il upload Se è più veloce Allora Come cibo ci stiamo Quindi mo vado a farmi un bel lavoro Guadagniamo un po' di soldi Perché dobbiamo pagarci l'affitto Quindi almeno 2-3 volte a settimana Dobbiamo lavorare Oltre che fare lo youtuber Giusto per pagarci l'affitto raga Solo per quello Anche perché in un giorno Si può guadagnare tantissimo Quindi dobbiamo essere furbi Andiamo così Troppo di questo Troppo di questo Perfetto Ok Vediamo un po' di interesse 56% Giusto Perfetto Allora Andiamo a lavorare Ci andiamo a fare un lavoro Ospite agli eventi Vai Ok 40 dollari guadagnati così No perché non posso chattare L'upload comunque è velocissimo Raga È veramente veloce Per ruppare i video Allora qua abbiamo una nuova abilità No C'è sbloccato nuove cose Scusate Qua abbiamo una nuova carta Transizione al nero Entro con il logo E ci scegliamo questa Poi vediamo questa E poi vediamo quest'altra Ok È santa miseria E scegli Se devi scegliere queste carte Perfetto Ok Allora qua ottieni 50.000 iscritti Sarà veramente difficile Va benissimo Sì l'abbiamo scelta la carta Ok Ah a posto Quanto cazzo di carte ho scelto Tre erano tutte Perché non te ne vai dallo schermo Ok Va bene Bene grazie L'hai fatto perfettamente Ora vediamo se il video è successo Grazie Richieste di vendita Ok perfetto Abbiamo guadagnato altri Boh Grandissimo Comunque ragazzi Io chiudo qua il secondo Gameplay di vita da youtuber Ci vediamo In un nuovo video gameplay Grazie mille per il like Del supporto Ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti E buona domenica Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti